Io sto con il doppiaggio intelligente perché sono un attore e anche un doppiatore e quindi in cinema sono anche io. Io sto con il doppiaggio intelligente e penso che pure mio padre ci starebbe. Io sto con il doppiaggio intelligente che poi è quello fatto bene e noi in Italia lo sappiamo fare molto bene perché il doppiatore è prima di tutto un attore e lavora con il cuore e ci fa pure lima. Io sto con il doppiaggio intelligente, quello che amo di più è recitare e trasferire tutte le sfumature che ha creato sul set un attore del cinema. Io sto con il doppiaggio intelligente è la campagna pensata per tutelare l'arte del doppiaggio italiano. Io sto con il doppiaggio intelligente perché un doppiatore è prima di tutto un attore e per recitare ci vuole cuore. Io sto con il doppiaggio intelligente perché dietro le mie interpretazioni ci sono anni di studio, impegno e fatica. È un grande lavoro quello di recitare e condividere emozioni. Io sto con il doppiaggio intelligente perché il doppiaggio è un'eccellenza italiana e va tutelato per difendere tutte le professionalità coinvolte, non solo i doppiatori ma anche i dialoghisti, i fonici, gli assistenti, le società, gli impiegati. C'è un mondo sommerso che lavora ogni giorno e che va protetto e tutelato. Io sto con il doppiaggio intelligente perché il doppiaggio è una cosa meravigliosa e va fatta da attori. Io sto con il doppiaggio intelligente perché recitare è la mia vita. Quello che amo di più è interpretare un personaggio e trasferire tutte le sfumature di una grande attrice del cinema. Io sto con il doppiaggio intelligente perché sto dalla parte della tecnologia ma quella che sappiamo usare con responsabilità. Io sto con il doppiaggio intelligente perché l'innovazione tecnologica sta portando a galla una serie di contraddizioni che diventeranno pericolose per l'esistenza del mio lavoro e di quello di tantissimi miei colleghi. Io sto con il doppiaggio intelligente perché sono un'attrice e una doppiatrice e non voglio rinunciare a questa magia. Io sto con il doppiaggio intelligente perché il doppiaggio è un'arte e l'arte è cultura. Io sto con il doppiaggio intelligente perché l'emozione non si clona. Io sto con il doppiaggio intelligente. Io sto con il doppiaggio intelligente. E tu? 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 E tu?